di fronte a pazienti che hanno anche problematiche legate al peso, in genere c'è una magrezza eccessiva, soprattutto nelle pazienti con anoressia nervosa. In questo caso il nutrizionista interviene, ma sicuramente in un secondo momento e sempre in una collaborazione stretta con lo psicoterapeuta, anche a integrare questo peso. Come avverrà? Logicamente non è facile per una paziente che ha problemi, ha disturbi del comportamento alimentare, accettare un aumento di peso, anzi spesso pazienti con anoressia nervosa lottano con il peso, quindi hanno, anzi, il loro obiettivo è quello di raggiungere il peso per loro ideale, che è un peso minimo, è un peso che addirittura potrebbe portarle alla morte. Una carenza di nutrienti tale da portare a una diminuzione eccessiva del peso, porta logicamente anche ad una perdita di altre sostanze importanti per l'organismo stesso e quindi purtroppo una delle conseguenze, purtroppo la più drastica è proprio la morte. Quindi accettare per una paziente l'incremento del peso non è facile. Nel momento in cui si riesce ad ottenere questo risultato, almeno il nutrizionista in che modo procede? Procede con una dieta ipocalorica, cioè vale a dire che l'introduzione dei nutrienti deve avvenire in modo graduale, quindi non si partirà con una dieta ipercalorica in modo da ottenere un risultato veloce e rapido, assolutamente no, anche perché un organismo che ormai è abituato a mangiare molto poco, mangiare in modo sbagliato, non riuscirebbe ad alimentarsi come noi vorremmo, quindi non riusciremmo ad avere un apporto calorico molto elevato. Quindi si procede con una dieta ipocalorica, man mano si aumenteranno le calorie, aumentando logicamente le quantità di cibo introdotto. Non è una cosa molto semplice, sembra un po' la bacchetta magica, mangiamo, riprendiamo il peso, ritorniamo in condizioni normali. Questo è il ruolo del nutrizionista, ma alla base c'è un lavoro molto più importante che è l'azione e il lavoro che fa lo psicoterapeuta. Insieme sicuramente si riesce a fare un buon lavoro, da soli logicamente non avrebbe senso procedere o avere la possibilità di fare molto. Però anche in questo caso penso che un'azione preventiva sia sicuramente da promuovere. Non è facile fare prevenzione nel campo dei disturbi del comportamento alimentare dal punto di vista nutrizionale, se non partendo da quelli che sono i principi di una buona alimentazione e di una sana alimentazione, cioè fare quella che noi comunemente chiamiamo educazione alimentare. Come si può fare educazione alimentare? Da premettere che questa deve partire dai primi anni di vita. Io partirei dalla nascita in un certo senso. Un ruolo importante non è solo quello del nutrizionista, che magari compare in un secondo momento, quando già ci sono dei problemi, un aumento di peso, un disturbo nei confronti del cibo, che non è sempre un disturbo, una non accettazione delle volte del cibo e così via. E quindi deve partire dalla scuola, dalle famiglie in modo particolare. Quindi dicevo dalla nascita. I bambini alla nascita hanno una grande fortuna, che è quella di essere alimentati da un alimento unico, sano, che è il latte. Il problema si propone nel momento in cui c'è lo svezzamento. Come procedere? È un lavoro che in genere i pediatri lo fanno molto bene. Però direi che da questo momento in poi bisogna abituare un po' il bambino ad abituarlo un po' a tutti gli alimenti, un po' a tutti i cibi, a conoscere i cibi. I cibi non devono essere visti come qualcosa di estraneo. Io parto da un presupposto molto semplice. Noi ci nutriamo per soddisfare un bisogno primario, che è la fame. Se non mangiamo, non ci nutriamo, il nostro organismo non assume quello di cui ha bisogno e quindi retrocede. Quindi malnutrizione e così via. Quindi il cibo deve essere visto in modo molto naturale. Molto naturale il cibo, molto naturale gli alimenti. I ragazzi vanno abituati ad un'alimentazione sana, a delle regole sicuramente, ma non regole di orari, mangiare colazione alle 8, pranzo a luna e così via. Le regole non sono delle regole rigide, ma sono delle sane abitudini. Quindi fare dei pasti principali sono delle regole molto semplici, non sono delle regole, insomma, non attuabili. Quindi fare dei pasti, diciamo, fare i tre pasti principali, fare eventualmente degli spuntini. Cosa mangiare? E qui penso che ci sia un problema di fondo molto importante. I nostri ragazzi purtroppo mangiano male. Cosa mangiano? Merendine? Cioccolata? Vanno i distributori? Noi, la pubblicità in questo non ci aiuta, la televisione in questo non ci aiuta. Ci propone merendine di tutti i tipi, di tutte le specie e diventano quasi una sorta di, diciamo, qualcosa che ci dà gioia, ci dà felicità. È quasi un toccasana. Mangio la merendina, so bene. Tutte le pubblicità, lasciatemi insomma il commento un po' personale, cosa ci propongono? Le famiglie felici che mangiano la merendina, che mangiano la colazione, il biscotto, eccetera, eccetera. In realtà i ragazzi si abitano a questo tipo di alimento. Spesso incontro ragazzi che lo spuntino a scuola, che cosa portano? Barrette, snack di cioccolata, ma non lo snack o la barretta al cioccolato, le barrette al cioccolato. Quindi anche una quantità eccessiva di questi prodotti. Che cosa rappresentano questi prodotti? Da un punto di vista nutrizionale sono degli alimenti sbagliati. Cosa contengono? Per la maggior parte zuccheri semplici, grassi di tipo idrogenato, che sono i grassi da cui poi nel nostro organismo viene prodotto il famoso colesterolo. Coloranti, conservanti, quindi tutto ciò che in realtà di cui noi non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno degli zuccheri, ma li possiamo trarre da altri alimenti più sani. Abbiamo bisogno dei grassi sicuramente, ma di grassi ce ne sono di vario tipo. Quindi abituare i ragazzi ad uno stile di vita completamente diverso. Un altro problema che spesso i nostri ragazzi hanno è quello di mangiare in momenti sbagliati. Quando mangiano i nostri ragazzi? Davanti al televisore, seduti sul divano, a giocare alla Playstation e così via. Questi sono tutti i comportamenti che dal punto di vista nutrizionale sono sbagliati. C'è anche un altro discorso da fare. Parlavamo dei disturbi del comportamento alimentare, che sono sicuramente oggi aumentano in modo anche vertiginoso. Ciò che è aumentato negli ultimi anni è anche l'obesità infantile. Purtroppo la Campania, che è la mia regione, io sono della provincia di Salerno, ha un triste primato in questo senso. Altri errori che se vogliamo noi, pongo io anche come genitore, spesso possiamo commettere anche involontariamente. Dare al cibo un ruolo diverso da quello che in realtà ha. Vale a dire, spesso usiamo delle frasi dei luoghi comuni, questo fa ingrassare, questo fa dimagrire, quindi va bene, questo cibo ti fa bene, mangialo, questo cibo ti fa male non mangiare. In realtà ridurre il tutto a fa bene, fa male non è una cosa giusta. Prima di tutto bisogna puntualizzare la quantità. Spesso da ragazze che incontro e che comunque stavano con loro un dibattito, eccetera, un colloquio, mi sento dire non mangio le patate perché fanno ingrassare, mangio la verdura perché fa dimagrire. In realtà entrambe le frasi sono sbagliate, ma si possono mangiare. Spesso c'è questa visione del cibo di un particolare cibo che è sbagliata. Prima di tutto bisognerà portarlo alla quantità. Se mangerò una torta intera starò male prima che farmi male, prima che farmi prendere peso, tra virgolette. Se mangio una fetta di torta non mi può succedere nulla. Se mangio l'insalata non dimagrirò, sicuramente faccio qualcosa di positivo, ma non posso dimagrire mangiando solo ed esclusivamente la verdura. Quindi bisogna un po' in qualche modo evitare questi luoghi comuni riguardanti il cibo. E sempre, insomma, riallacciandomi un po', anche con... spesso si mangia non perché si ha fame, ma si mangia per soddisfare un piacere. In quel momento mangiare un cioccolatino, un dolce o qualsiasi altra cosa che faccia piacere è soddisfare un bisogno. Un bisogno che non è quello di nutrirsi, ma è un bisogno che va al di là di quelli che sono i fabbisogni alimentari. Quindi per quanto riguarda la prevenzione si può fare molto partendo da piccoli, partendo da quello che è il ruolo della famiglia e poi anche della scuola. Educare i nostri ragazzi a mangiare in un certo modo, a mangiare in modo sano, a mangiare in modo variato, questa è un'altra cosa che spesso i nostri ragazzi non fanno. Mangiano abitualmente le stesse cose. La pasta, la pizza. Alcuni ragazzi, ho scoperto nella mia piccola esperienza, diciamo così. Parlo di ragazzi grandicelli, 17, 18, 20 anni, non riescono a distinguere, per esempio, faccio un esempio banale, spinaci da un altro tipo di verdura, dalla bietola. Alla domanda cosa preferisci mangiare? Mangio la pizza, la pasta no perché non mi piace, perché, scusate, è viscida. Questa è stata per esempio una risposta che mi è stata data. Mangio le verdure. Quali verdure? L'insalata e i pomodori. Cioè è molto riduttivo, come molto spesso, poi andando un po' all'origine, spesso in casa non si cucinano, perché alcuni tipi di verdure lasciano un cattivo odore, perché il pesce non ha altrettanto un... quindi molto spesso noi scarichiamo sui nostri ragazzi anche un nostro probabilmente problema, poi i psicologi, i colleghi che insomma mi diranno. Quindi bisognerebbe un attimo liberare anche da questi luoghi comuni. Il cibo serve per farci stare bene, sicuramente, serve per portare quelle di cui l'organismo ha bisogno. Ha bisogno un po' di tutto, ha bisogno degli zuccheri, ha bisogno dei grassi, ha bisogno delle proteine, di sali minerali, di vitamine, di acqua, un po' di tutto senza esagerare. Ringraziamo la dottoressa e invitiamo sul palco per un altro momento di drammatizzazione Ivana Anania. Ci sono giorni in cui sembra vada tutto così bene, ma sono rari. Ci sono giorni in cui sembra che non ce la farai. Giorni in cui ti crolla il mondo addosso. Il tuo ragazzo ti ha lasciato e tutti su Facebook ti parlano di lui, con la speranza di farti cambiare idea. Ricorda che nella vita ci sono persone, ci sarà un buon 50% di persone che ti dà la forza di andare avanti. Ci sarà un 30% di persone che ti illuderà. Il 15% che prenderà i tuoi sogni e li calpesterà. E solo il 5% che ti darà la forza di andare avanti. Ci sono quei giorni in cui tu pensi di fare agli altri la stessa cosa, ma poi quando la fai diventi come loro. Ricorda che ci sono persone che soffrono più di te quando senti che non ce la farai. Stringi pugni affronta la battaglia. Quella con te stesso. Grazie mille anche a Ivana. Adesso invitiamo sul palco la dottoressa Nicoletta Labanga, psicologa psicoterapeuta sistemico-relazionale. Si è occupata di disabilità e terapie assistite con i cavalli e gli asini a favore degli utenti con disturbo del comportamento alimentare che risiedevano nel centro Gioia di Chiaromonte. Il suo intervento verterà proprio sui DCA e la famiglia. Buonasera a tutti. Diciamo che credo sia doveroso fare una premessa su alcuni dati. La dottoressa prima accennava alla enorme diffusione di questo fenomeno. In effetti dai dati del Ministero della Salute, su 100 ragazze in un'età che va dai 12 ai 25 anni in Italia, 10 soffrono di disturbi legati alla sfera alimentare. Di queste 1-2 di forme importanti di anoressia o bulimia, le restanti 8 di forme cliniche più transitorie e meno complesse. Però credo che il dato ci debba far riflettere perché sembra non esista nessun altro tipo di patologia psichiatrica che abbia avuto ed abbia questa diffusione. Sembra quasi si tratti di una vera e propria epidemia sociale. I significati legati al cibo e al maggiore sono complessi e implicano veramente tanti livelli. Il cibo è fonte di vita, quindi questo lo rende sicuramente forse con delle caratteristiche che rispetto agli altri tipi di dipendenze figlie delle quali ci parlava il dottor Finamore prima. È un po' più complesso il discorso perché veramente il cibo è fonte di vita, sebbene io condivida molto il discorso più ampio che si faceva sulle dipendenze. Ovviamente questo tipo di disturbi dei quali non abbiamo parlato, non siamo entrati nello specifico a descriverli perché credo ormai sia abbastanza diffusa la conoscenza di questo tipo di patologie, in particolare forse dell'anoressia che è quella che è più visibile rispetto alla bulimia nella quale si mantiene, almeno nelle esteriorità della persona, un aspetto di normalità. Invece nell'anoressia, così come nell'obesità psicogena il corpo esprime in maniera abbastanza chiara la difficoltà della persona. Ovviamente non sono assolutamente patologie che hanno a che fare con un'eccessiva fame o con una mancanza di fame, non stiamo parlando di problematiche fisiologiche, ma si tratta di patologie che esprimono una sofferenza psicologica notevole, che investe aspetti effettivamente decisivi sul piano della costituzione dell'identità della persona e che quindi non possono non trovare un riferimento anche nella famiglia di quella persona, che è il primo fondamentale contesto di riferimento per ognuno di noi. Anche perché, come ci suggerisce un importante autore, Václavik, un fenomeno spesso resta inspiegabile fin quando non riusciamo ad allargare il campo di osservazione al punto da includere il contesto nel quale quel fenomeno si verifica e proprio perché la famiglia è il contesto nel quale la patologia emerge, come vi dicevo tipicamente nella fase dell'adolescenza, è utile far riferimento ad essa. Che le patologie alimentari, voglio dire, siano correlate a dei difetti, delle difficoltà nelle relazioni cosiddette primarie, comunque con i genitori o con le persone che per prime ci accudiscono quando veniamo al mondo, è un dato acquisito. Perché? Perché come si accennava già nelle relazioni precedenti, noi veniamo al mondo con una serie di bisogni che all'inizio non siamo capaci di autosoddisfare, ma che soddisfa qualcun altro per noi. In questo processo noi piano piano acquisiamo la conoscenza di quali sono i nostri bisogni e delle modalità corrette di soddisfarle. Ma perché questo accada ci deve essere una risposta adeguata e sincronica ai nostri bisogni, quando questo non accade noi non riusciamo a differenziare i nostri bisogni e nel tempo, nell'infanzia e nell'età poi dell'adolescenza può accadere che più che soddisfare i nostri bisogni, soddisfiamo i bisogni dell'altro in qualche maniera. Ovviamente questo ci porta a non capire chi siamo davvero, a non differenziarci come persone. Diversi autori che non so qui a citare sostengono quello che vi sto dicendo e che porta in molti casi e chi ha avuto a che fare con persone con questo tipo di disturbi lo sa bene, alla costituzione di un'identità falsata, un falso se in termini tecnici lo si definisce. È come se la persona nella definizione di se stessa dovesse fare riferimento sempre all'altro e alla relazione con l'altro e quando quella relazione non è funzionale la persona ovviamente viene fuori in maniera negativa. Quindi volendolo riassumere fortemente il problema dei disturbi alimentari è riconducibile ad un problema di differenziazione della persona, di capacità di trovare un'individualità a sé stante, che è poi il compito principale che dovrebbe avere ogni famiglia sana, nel senso che dovrebbe aiutare i propri membri a diventare se stessi nella loro diversità, nella storia comune, evolutiva della famiglia, ma nella propria diversità. Questo spesso non accade non per cattiveria, voglio dire, o per incapacità, per incuria dei genitori, ma perché nell'evoluzione della famiglia, nel ciclo vitalo della famiglia che ha delle fasi che attraversano tutte le famiglie, si verifica un arresto del processo evolutivo che riguarda il singolo, ma riguarda anche gli altri. Quando si determina questa condizione, in genere a livello della generazione dei figli emergono delle difficoltà più o meno importanti a seconda della durata di questo stallo e della profondità delle difficoltà dei vari membri della famiglia. Non voglio dire, anche perché sarebbe arbitrario, che ci sia una famiglia tipica della persona che soffre di disturbi del comportamento alimentare, perché non è così, lo si vede dalle osservazioni cliniche delle famiglie che io ho incontrato, ma che nella letteratura vengono riportate, però da numerosi studi emerge invece una tipicità delle famiglie che hanno questo tipo di difficoltà, cioè delle caratteristiche che ricorrono di frequente. Io vi accenno a due di queste, e sono l'abilità dei confini tra le persone e nelle generazioni all'interno della famiglia, cioè tra genitori e figli o proprio tra tutti gli individui, per cui praticamente c'è confusione delle funzioni e dei ruoli che ci dovrebbero essere all'interno della famiglia, padre, madre e figli. Si parla in termini tecnici di famiglie invischiate, o volendo utilizzare un'altra metafora di famiglie con le porte aperte, perché? Perché c'è la tendenza da parte dei membri di queste famiglie in qualche maniera di intrudere nei pensieri, nei comportamenti, nelle azioni o nella comunicazione degli altri membri della famiglia. E da questo si origina la necessità estrema poi delle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, di controllare il proprio corpo o comunque parti interne di sé, perché è l'unico spiraglio che loro trovano in qualche maniera e sul quale si illudono di poter avere un controllo. Così come questa non definizione dei ruoli impedisce l'assunzione di un'identità, per esempio di una definita identità sessuale nelle ragazze che soffrono di questo tipo di disturbi e che invece l'età che loro vivono dovrebbe comportare. Un'altra caratteristica di frequente riscontro è l'evitamento dei conflitti, nel senso che in queste famiglie è come se venisse impedita ogni manifestazione di disaccordo e questo di fatto impedisce quella che prima dicevamo, la differenziazione, perché io nella possibilità di dire quello che penso al di là che questo sia in accordo con quello che pensa l'altro in la famiglia, mi permette di definirmi e di definire la nostra relazione. Quando questo non è possibile, perché è fonte di sofferenza la differenziazione, e quindi io la devo tenere non esplicita, questo rende quel processo di autonomia difficoltoso. E perché i problemi poi scattano in adolescenza? Perché è esattamente in quel periodo che l'individuo sente forte l'esigenza di capire chi è e di definirsi al di là della famiglia. Ed ecco perché allora questa estrema protesta di chi ha un disturbo del genere, che è un tentativo sofferto e a volte disperato di differenziarsi, ma che rimane protesta alla fine muta, come dire, confinata comunque nell'implicito, nel non detto, nel corpo, non trova capacità di espressione. Diciamo che molti autori si sono interessati al lavoro con le famiglie, senza entrare nello specifico, però un'altra considerazione che mi premeva fare era che ormai si è concordi nel definire questo tipo di disturbi e l'origine di questi disturbi come dipendente da più fattori. E pertanto questo richiede per poterli affrontare un altrettanto impegno multidisciplinare da parte di più professionisti, non c'è quindi un ordine di motivazione esclusiva. Io stasera vi ho parlato in maniera fra l'altro così molto semplice e ristretta dell'aspetto delle implicazioni della famiglia in questo tipo di disturbi, ma ovviamente ci possono essere motivazioni sul piano organico, ma comunque non possiamo parlare esclusivamente né di malattie genetiche, né di danni all'ipofisi, né di lesioni del centro della fame, così come non possiamo parlare di motivazioni esclusivamente psicologiche o legate alla famiglia, né tantomeno possiamo parlare di problematiche legate solo alla cultura, ma sono tutti, o meglio, dall'insieme di questi fattori che in alcune persone si determina la genesi e il mantenimento di questo tipo di disturbi. E quindi ribadisco, per affrontarli nella maniera corretta, credo sia indispensabile un intervento a più mani, a più voci e a più cuori. Grazie. Vi ringraziamo la dottoressa Labanga e lasciamo di nuovo la parola a Luana Brunelleschi per un altro momento di drammatizzazione. Lo specchio rimanda l'immagine, ma l'immagine non modifica lo specchio. Tu non sei nello specchio né l'immagine nello specchio. Puoi lucidarlo per renderlo trasparente e poi ti ci guardi dentro. L'immagine che ti rimanderà non sei tu, tu sei l'osservatore dell'immagine. Capisci bene qualunque cosa tu percepisca, non sei quello, perché puoi vedere sia l'immagine che lo specchio. Non sei nessuno dei due. Chi sei? Ruoti in una nuova dimensione, dalla quale i vecchi abiti mentali appaiono vuote astrazioni. Come al sorgere del sole, si vedono le cose così come sono, così nell'autorealizzazione tutto si dimostra com'è. Il mondo dell'illusione è lasciato alle spalle. Non è l'esperienza della realtà, bensì l'armonia dell'universo. Ora lasciamo la parola alla dottoressa Maria Pia Papaleo, che oltre a essere l'insegnante di queste ragazze, è counselor ed esperta in arteterapia e ci illustrerà quelle che sono le possibili applicazioni dell'arteterapia nei disturbi del comportamento alimentare. Che cos'è la teatroterapia? La teatroterapia è una messa in scena dei propri vissuti all'interno di un gruppo col supporto che si prende un po' dall'arte del teatro. Ma sono due cose perfettamente diverse, perché nel teatro noi abbiamo il copione, abbiamo delle tecniche, la tecnica della memorizzazione con i suoi ganci e poi intorno alla scenografia, i costumi, eccetera. Per la teatroterapia invece è qualcosa di diverso, perché innanzitutto si usa l'improvvisazione. Teatroterapia, perché? Innanzitutto terapia del benessere. Tutto ciò che ci porta benessere può far capo alla parola terapia. La teatroterapia è usata in vari ambiti, innanzitutto quello sociale, per la socializzazione dei gruppi da un'età che parte dai bambini della scuola elementare fino ad arrivare alla terza età. Anche usata nell'ambito clinico per quanto riguarda il TCA, per i problemi dell'alimentazione di cui stiamo parlando stasera, oppure altri problemi patologici e clinici, depressioni, eccetera. Oppure la teatroterapia è usata anche come socializzazione nei carceri e in altre strutture. Questa sera io vi volevo parlare proprio della teatroterapia intesa come benessere. Che cosa significa questo? Significa che la teatroterapia usa come strategia il teatro. Perché? Perché si è visto che portando un personaggio c'è un'introspezione, uno scavare dentro di noi e molte volte quello che non si riesce a dire a parole si riesce a dire con un non verbale, con il simbolo, con la postura, la gestualità, la corporeità. La teatroterapia è vista come una via privilegiata di accesso proprio alla nostra psiche, per cui verranno fuori tutti quei dolori che noi reprimiamo dentro, perché molte volte siamo condizionati dai cliché sociali. Che cosa succede? Succede che il soggetto si trasforma e nell'interpretare il personaggio capisce che ha una possibilità di cambiamento e questa è la cosa più importante per la costruzione del sé che in alcune patologie è come scisso, come separato. Ci sono delle emozioni avversative, per cui queste emozioni devono sapere essere gestite, consapevolizzate prima e gestite dopo e quindi si ha poi il processo di cambiamento, la possibilità di cambiamento. Insomma è una possibilità di esplorare se stessi, perché scavare dentro se stessi in questi casi è quanto mai importante. Inoltre aiuta la persona a prendersi cura di sé, perché molte volte noi non ci prendiamo cura di noi stessi. Mette la persona in contatto con il proprio corpo, perché è proprio dall'accessione di psiche e di corpo che ci sono poi queste patologie di cui parlava la dottoressa. E quindi mette in contatto la psiche e il corpo per un'unificazione. Il teatro in questo caso è un percorso conoscitivo ed un percorso evolutivo. E ripeto, non è sostitutiva di una cura quella fatta in ambito clinico, assolutamente, ma soltanto funge da supporto, da rafforzo. Gli obiettivi del modulo, perché poi il dottor Chiacchio vi presenterà questo modulo, saranno proprio quelli di fare indicazione sui metodi della teatroterapia in questi vari ampiti, diciamo un po' unendoli anche all'utilizzo di diverse modalità espressive in comunanza poi con la base fenomenologica esistenziale, che poi è propria di alcune strategie e di alcune scuole come la Gestalt. Ci saranno dei laboratori teorici e esperenziali, perché la teatroterapia si fa innanzitutto come esperenziali, come laboratori, quello che avete visto è il frutto proprio di un laboratorio fatto a scuola, loro sono soltanto dei portavoci di un laboratorio che è stato fatto sul Biennio, due classi, 50 persone. e in questo laboratorio che si farà durante questo master saranno coinvolti i soggetti stessi. L'ambiente della teatroterapia è un ambiente protetto, protetto perché innanzitutto non si è giudicanti, quando si fanno questi laboratori non si è mai giudicanti e la prima cosa è l'accoglienza, l'accoglienza dell'altro. E poi l'empatia, che cos'è l'empatia? L'empatia è condividere i dolori dell'altro, entrare nei dolori dell'altro rimanendo però nelle proprie scarpe, cioè avendo quella freddezza necessaria, perché altrimenti non si può dare il suggerimento, non consiglio, perché i consigli non si danno mai, ma il suggerimento all'altro affinché guarisca. Grazie. Allora, adesso ci sarà l'ultimo momento di drammatizzazione che sarà interpretato da Italia La Banca. Nel frattempo, dato che dovranno preparare qualcosa, volevo ricordare che i testi che le ragazze hanno recitato questa sera la mia